Allora, parliamo dell'ascesa del fascismo. Noi eravamo arrivati al Bienio Rosso, quindi al periodo tra il 19 e il 20, che era stato caratterizzato da una grave conflittualità sociale, da come Giolitti aveva tentato di risolvere la situazione giungendo ad un compromesso che aveva scontentato tutti. Anche all'interno del PSI questo accordo raggiunto da Giolitti aveva creato un'altra grave frattura. E cosa successe? Successe che il 21 gennaio del 1921 la corrente che faceva capo a Gramsci e a Togliatti, quella che diciamo si esprimeva nel giornale Ordine Nuovo, si stacca e fonda il Partito Comunista italiano, il PCI, che aderirà alla terza internazionale di Lenin, quindi il cui progetto è quello della rivoluzione del proletariato in Italia, cioè di esportare la rivoluzione russa in Italia. Nel frattempo, come sapete, era nato nel 1919 era nato il movimento dei fasci di combattimento, il movimento fascista. Il movimento fascista il cui programma era stato espresso nella riunione di piazza Sansepolcro, che ecco in questi anni riuscirà a avere sempre più consensi. Ma perché? Perché Mussolini darà al movimento fascista una linea conservatrice e fortemente antisocialista. E quindi riuscirà ad avere l'appoggio dell'alta borgesia, cioè degli industriali, cioè dei capi di fabbrica, dei capitalisti, dei grandi proprietari terrieri, dei latifondisti nel meridione d'Italia e poi sempre più dei ceti medi, della media borgesia, che non si vedeva rappresentata da nessun partito e soprattutto l'allovigione pubblica, presso cui faceva molta presa la capacità oratoria e il carisma di Mussolini. Quindi diciamo che il fascismo si caratterizza in chiave sempre più conservatrice. Perché? Perché in questi momenti, in questi periodi di forte conduttualità sociale, tutti, anche l'uomo della strada, sentono il bisogno dell'uomo forte, appunto del superuomo, e in questo caso sarebbe Mussolini, il quale possa rimettere ordine alla situazione. E in questo caso abbiamo già parlato dell'individualismo e della violenza che caratterizzava l'azione politica del fascismo. Infatti i fascisti facevano politica anche con la violenza delle squadre d'azione o squadracce in camicia nera. Ecco, qui li possiamo anche vedere. Ecco, erano giovani, anche ex patrioti che formavano una formazione paramilitare caratterizzata dalle camicie nere, cioè dal fatto che indossavano le camicie nere e che agivano non solo individualmente, ma agivano con violenza. Cioè, laddove c'era una manifestazione, laddove c'era uno sciopero di operai, arrivavano le camicie nere a pestare i manifestanti. E la stessa azione violenta la facevano contro le sedi del partito socialista, oppure contro la sede dell'Avanti. Abbiamo già visto un tipo di azione del genere già nel 1919. Quindi, ecco, ciò faceva comodo ai latifondisti e ai capitalisti, laddove appunto le camicie nere intervenivano con violenza contro i braccianti oppure contro gli operai che manifestavano. Infatti, ritorniamo al nostro schema, un esempio di questa violenza avviene il 21 novembre del 1920, quando a Bologna delle camicie nere assaltano Palazzo d'Accursio, da dove si stava affacciando il neoeletto sindaco socialista di Bologna. Praticamente, mentre il sindaco parla, i fascisti tirano bombe a mano. Ecco, il risultato è che ci sono dieci morti, tra cui tre fascisti. Però, ripeto, il fascismo aveva l'appoggio dei poteri forti anche del re, che aveva una certa simpatia per Mussolini, forse perché vedeva lui l'uomo forte che avrebbe potuto risolvere questa situazione caotica. E poi anche dei liberali di Giolitti. Ecco, in questo caso Giolitti, però, non è che avesse simpatia nei confronti di Mussolini. Più che altro commise un errore politico di sottovalutazione. Cioè, nel senso che Giolitti sottovalutò il pericolo fascista, considerando il fascismo una sorta di fuoco di paglia che o sarebbe scompasso o si sarebbe irregimentato, diciamo, nelle istituzioni democratiche. Ecco, in questo caso, però, bisognava servirsi dei fascisti per arginare le forze socialiste che stavano crescendo. Ecco, questa fu, diciamo, la linea di azione sbagliata perché sottovalutò il fascismo da parte di Giolitti. Infatti, nelle elezioni del maggio del 1921, che cosa fece Giolitti? Giolitti si alleò con i nazionalisti e con i fascisti, formando una lista che comprendeva, ripeto, giolittiani, nazionalisti e fascisti, chiamata blocco nazionale. Questo nell'intento di avere quella maggioranza in Parlamento che il Partito Liberale non raggiungeva da tanti anni. Risultato che, ecco, venne smentito. Perché? Vediamo, ecco, cosa succede nelle elezioni del maggio del 1921, come si compone la Camera dei Deputati. Allora, come vedete, lo schieramento liberale non ottiene la maggioranza completamente perché raggiunge, anzi scende ancora di più raggiungendo il 43,9%. L'unico risultato è che così i fascisti arrivano ad essere eletti, cioè Mussolini entra alla Camera perché il partito fascista, il movimento fascista, ancora non era partito, ottiene 35 deputati, tra cui appunto c'era lo stesso Mussolini che così, diventa deputato alla Camera. Invece in queste elezioni crescono i popolari di Sturzo e anche i socialisti, se non fosse stato, i socialisti si mantengono sulle stesse quote perché, come a solito, la sinistra era divisa. Se non ci fosse stata la lacerazione dei comunisti, sicuramente i socialisti avrebbero avuto un risultato migliore. Comunque, questo risultato fa sì, torniamo al nostro schema, che Giolitti appunto si deve dimettere. Nel luglio del 1921 Giolitti si dimette perché non è in grado di formare un governo che abbia la maggioranza e il Re affida l'incarico di governo a altri due liberali, dalla personalità molto debole, prima Bonomi e poi altri due incarichi al liberale FACTA. Nel frattempo il partito, il movimento fascista cresce e cresce in consensi, tanto che nel novembre del 1921 Mussolini pensa di irregimentare quello che era un movimento nel PNF, nel partito nazionale fascista, in maniera tale da riuscire a gestirlo meglio. Nel giro di neanche un anno, sembra strano, eppure succede, nel giro di poco meno di un anno, da quando Mussolini fonda il partito nazionale fascista, ecco che Mussolini con un'azione di forza, con una specie di colpo di mano, riesce ad ottenere il potere. Perché? Perché ecco, da quando era arrivato alla Camera come deputato, Mussolini aveva assunto una patente di, diciamo, legittimità costituzionale. Ecco, si dichiarava lui stesso, diciamo, ligio alle libertà democratiche, ma sotto sotto faceva agire le camicie nere, faceva agire gli squadristi che intimidivano gli oppositori politici, soprattutto i socialisti e agivano laddove ci fossero stati, agivano con la violenza, laddove ci fossero stati scioperi o manifestazioni di operai o di contadini. Ecco perché cresce il consenso di Mussolini. Anche perché, ecco, i poteri forti vedono in Mussolini, ecco, non solo l'uomo forte, ma anche, non solo l'uomo forte che possa mettere ordine, ma anche un uomo forte che possa agginare il pericolo rosso e, come sapete, il pericolo rosso faceva paura a tanti, soprattutto, appunto, ai capitalisti, alle banche, alla finanza, eccetera, eccetera. E allora Mussolini nell'ottobre del 1922 si rende conto che può attuare, ecco, pur avendo solo 35 deputati in Parlamento, quindi una minoranza esigua, può attuare una sorta di colpo di Stato, ecco, facendosi aiutare dai capi del camice nere. Per cui, nella notte tra il 27 e il 28 ottobre del 1922, mentre Mussolini, ecco, attende l'esito dell'azione a Milano, diciamo, alcune camice nere, che poi non sono neanche tante, capitanate dai, diciamo, maggiori, dai più importanti capi dello squadrismo, marciano su Roma. A questo punto il Presidente del Consiglio è FACTA, il quale è pronto a far intervenire l'esercito per scongiurare, per reprimere questa azione di forza. Quindi FACTA, nella notte tra il 27 e il 28 ottobre, ecco, prepara la programmazione dello Stato d'assedio, ma quando si reca dal Re per far programmare questo Stato d'assedio, il Re si rifiuta di firmare. Il Re si rifiuta di firmare e quindi FACTA è costretto a dimettersi. Perché il Re si era rifiutato di firmare? Probabilmente per due motivi. Intanto abbiamo parlato delle sue simpatie per Mussolini, intanto sicuramente, ecco, le simpatie per Mussolini e l'idea che Mussolini potesse porre ordine come uomo forte nella politica italiana. E poi dall'altro lato, questa fu la giustificazione ufficiale, ecco, temeva che potesse scoppiare una guerra civile. Ecco, e quindi, ecco, si rifiuta di firmare. E allora a questo punto, dopo alcuni tentativi del Re di dare l'incarico a qualche liberale, ecco, il 29 ottobre del 1922, ecco, il Re da a Mussolini, affida a Mussolini l'incarico di formare il nuovo governo. Ecco, vi faccio vedere, vi faccio vedere l'immagine di Mussolini insieme con...